Pacchino, 48enne ubriaco denunciato per minacce a pubblico ufficiale. Il caldo inizia a fare brutti scherzi, anch'esso il malessere psicologico, l'insofferenza alla vita quotidiana, il magone interiore improvviso. Sono tutti sintomi che portano inevitabilmente un uomo ad abusare dell'alcol, dove i postumi dell'ubriachezza sono un insieme di effetti fisici che seguono l'eccessivo consumo di bevande alcoliche. A un 48enne paginese sono accadute alcuni di questi fattori, ha alzato il gomito e gli agenti del commissariato di Pacchino lo hanno denunciato per i reati di ubriachezza molesta, minacce e oltraggia al pubblico ufficiale. In particolare verso la mezzanotte del 10 giugno, gli agenti sono intervenuti alla balata di Marzamemi per la segnalazione di un uomo in evidente stato di ebrezza. Mentre gli agenti si avvicinavano alla persona ubriaca, questa indispetita dalla presenza della polizia effettuava con il proprio telefonino una diretta su un social network riprendendoli. Quando gli operatori tentavano di procedere all'identificazione dell'uomo, questo iniziava a oltraggiare e a offendere pesantemente gli agenti, i quali si vedevano costretti ad accompagnarlo presso gli uffici del locale commissariato. La condotta offensiva dell'uomo proseguiva anche all'interno degli uffici di polizia dove veniva reso edotto che per i fatti accaduti sarebbe stata denunciata. A preso ciò, al fine di intimorire gli agenti, l'uomo prima millantava conoscenze con dirigenti della Polizia di Stato e poi, visto che le minacce non avevano effetto, manifestava un presunto malessere. Gli agenti di Pachino hanno denunciato un uomo di 76 anni che ha permesso a un giovane di 38 anni di vendere un veicolo posto sotto sequestro. Entrambi sono stati denunciati per sottrazione in concorso di cosa sottoposta al sequestro amministrativo.